Francesco bentornato a Messina, un ritorno che hai fortemente voluto, i motivi per cui hai voluto questo ritorno a Messina? Buonasera a tutti, ringrazio in primis la società e il direttore Obedio che mi ha riportato qua e ormai non mi posso nascondere, qua mi sento a casa e devo andare ancora tanto a questa maglia. Torni a distanza di due anni, cosa ti aspetti di trovare da parte dei tifosi? Aspetto tanta gente allo stadio, tanto entusiasmo che ho visto già subito da oggi il primo allenamento, tante cose cambiate e spero che andiamo bene e facciamo una grande stagione. Come è stato l'impatto, hai ritrovato qualcuno che conoscevi come Fabio Boss, gli altri che conoscevi, conoscevi qualcuno? Conosco Esposito, Fabio ci ha giocato insieme, qualcuno lo conosco, tutti i grandi giocatori che parlano a carta di identità. Francesco, una parola invece sul momento del Messina, come hai visto non è iniziata nel migliore dei modi, ma domenica c'è la prima gara in casa, cosa serve secondo te per cambiare rotta? Nel calcio i nomi e la carta di identità non serve, serve mettere la fama in campo e chi ha più voglia, quello vince. Cosa ti aspetti da questo campionato? È un campionato duro, ci sono tanti derby, noi ce la metteremo tutta perché noi siamo il Messina. Sei un po' emozionato in vista del ritorno in campo con questa maglia, che sia domenica o più in avanti? No, faccio una battuta, non ho emozionato, stanco perché ho viaggiato già da ieri, poi stamattina, da ieri sera, stamattina alleamento e sono stanco. Sì, comunque sono felicissimo di tornare qua a casa, perché non ho fatto ancora niente, come mi diceva il direttore, obbedio che si deve fare ancora di più. Grazie. 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 Grazie.